Ben ritrovati con l'appuntamento minuto sale luce, il saluto vi arriva dalla terrazza della residenza Paolo VI. Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza il Cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della CEI. Successivamente il Santo Padre ha accolto anche il terzo ed ultimo gruppo dei Vescovi argentini in visita ad Limina, qui in Vaticano. L'ultimo impegno di giornata del Papa è stata all'udienza con circa 300 persone della comunità dei Fratelli delle Scuole Cristiane in Sala Clementina. Questo pomeriggio a Trosli in Francia si sono tenuti i funerali di Jean Vanier, scomparso lo scorso 7 maggio all'età di 90 anni. Si è tenuto oggi presso l'aula magna della Pontificia Università Gregoriana un convegno in preparazione del Sinodo per l'Amazzonia dal tema Amazzonia, sfide prospettive per la Casa Comune. La giornata di studio ha analizzato alcune vie percorribili in vista del Sinodo per la Regione Panamazzonica che si terrà in Vaticano dal prossimo 6 al 27 ottobre. È tutto anche per oggi, l'appuntamento e a domani.